Tutto inizia nella penombra. La grande sala accoglie il nuotatore di studio azzurro come una sorta di atto di fiducia verso l'arte e la sua rappresentazione del mondo. Poi, allargando lo sguardo, si scorgono le sale, tutte intorno, che ospitano numerosi capolavori. Siamo entrati alle gallerie d'Italia di Piazza Scala per scoprire la mostra che segna la riapertura del Museo Milanese di Intesa San Paolo, Painting is Back, dedicata alla pittura italiana degli anni Ottanta. Un progetto che punta a una rilettura più consapevole di un decennio nel quale gli artisti italiani hanno assunto un grande rilievo sullo scenario internazionale. E il curatore Luca Massimo Barbero ha scelto di condurre la narrazione della mostra con molte diverse suggestioni. Painting is Back ha un titolo in inglese dove dice il ritorno della pittura, ma in realtà la pittura non è mai tramontata. Negli anni Ottanta c'è un rinnovo della pittura italiana, quindi il dialogo non è fra movimenti o stigmatizzazioni, ma il dialogo è assolutamente del far rincontrare o rivedere soprattutto alle nuove generazioni la pittura straordinaria di quegli anni. In mostra grandi dipinti della trans avanguardia con il gesto di Francesco Clemente o di Enzo Cucchi, ma anche molti altri percorsi, da quelli di Luigi Ontani, che appare anche nei panni di uno sciva, a quelli di Mimmo Rotella, a cui è affidato l'onore di scrivere in un suo decollage proprio la parola pittura. Un focus speciale poi è riservato in Enrico Bai, di cui è esposta un'opera colossale a spray, sospesa taggheronica e la street art, il mondo delle idee. Per le gallerie d'Italia, inoltre, la mostra è un'occasione per ritornare ad aprirsi al pubblico, con grande soddisfazione del direttore Michele Coppola, che guida per intesa San Paolo tutto il progetto Cultura. È un momento positivo, un momento piacevole. Il museo è aperto dal martedì alla domenica, il progetto Cultura continua ad andare avanti, i cantieri a Napoli e Torino procedono, le attività espositive a Napoli e Vicenza continuano ad aprirsi alla città, alle due città, e quindi con le dite incrociate possiamo dire che siamo ottimisti e guardiamo il futuro con positività. Una positività che, in un curioso rimbalzo di emozioni e momenti storici, si trova anche negli anni Ottanta, momento di passaggio e di cambiamento. Finiscono gli anni Settanta, cupi, duri, anzi addirittura gli anni Ottanti, iniziano con evenimenti anche drammatici e la pittura ci libera finalmente da una sorta di ortodossia, da una sorta di bianco e nero fotografico, da una sorta di concettualità e finalmente torna alla poesia della libertà, del gesto, dell'immagine, anche in fondo, come si dice, di una nuova poesia. L'Italia negli anni Ottanta è molto più profonda, molto più poetica di quanto non si voglia far credere. Questa mostra, in un qualche modo, lo apre agli occhi dei visitatori. Indimenticabili in questo senso, i tanti lavori di Mario Schifano presenti in mostra, a cominciare dalle composizioni equestre o del grande osservatorio, che domina una delle sale più belle. E poi ecco anche dei Mario Merz, inattesi e sorprendenti, per arrivare a un magnifico oltremare di Emilio Tadini, alta figura eclettica che può simboleggiare al meglio il periodo. Dopo la pandemia e le chiusure, quindi, si ha proprio la sensazione di un ritorno alla vita delle Gallerie d'Italia, che va di pari passo con il perdurante impegno dell'Intesa San Paolo per la cultura. Questo è un dato di fatto, è figlio di una visione illuminata delle leadership. La mostra Painting is Back è aperta al pubblico dal 2 giugno al 3 ottobre 2021.